E siamo giunti al momento dei gentlemen, anziani, otto in prime, uno in seconda, in nove, corsa che vede UEFA-Jet e Utavian del Runco tra i favoriti. Mezzo meccanico in movimento, allineamento che gradatamente va a completarsi, un po' arretrato Urbina-Jet che rinuncia al lancio. Bene a rete o quasi. Ursinio con calma, galoppa Urbina, si riprega, galoppa il 6, Usain, via la macchina. Alla chiusura UEFA-Jet tenta di mantenere i birilli, ma a largo insistono gli avversari. Cavalli che affrontano la prima curva, UEFA rientra agli avversari, 13.9 a partire, è partito molto bene Tango Bar. E siamo al completamento della piegata, cavalli che si presentano davanti alle tribune. Si va al quarto iniziale, passato nell'ordine del 29.5. E sta passando gradatamente al comando, Ulisse F, numero 5. E così Ulisse a fare andatura su UEFA-Jet, mezza ruota di Utavian. 43.5 da 1.12.5. E il buono Orlando ha preso il numero buono per venire a largo, in modo che cerca di raggiungere i premi. Ulisse completa il mezzo medio in 59. UEFA-Jet, Utavian, Tango Bar, che è venuto a largo, di dentro Ulrich Pisano. Cavalli al completamento del chilometro, passato nell'ordine del 13.7, 14.7 di frazione. 500 alla meta, sposta UEFA-Jet e punta in avanti, servita a dovere da Ulisse. Lo appariglia completamente, lo sopravanza UEFA. Poi tenta la difesa all'avversario, completamento della curva finale. UEFA-Jet rinnova gli attacchi, il Gallo vuol cantare anche a quest'ora. Prima ha cantato il fratellino, canta lui, canta lui, viene via la grande Ulrich Pisano, canta il Gallo, canta e canta come vuole, e imita il fratellino. 1.57, signori, 1.13 e 1. Vittoria di classe da parte del giovane Filippo Gallo, con questa UEFA-Jet, manda via Ulisse e addirittura ne dispone a piacimento, cresciutissimo. Un ottimo Ulrich Pisano è secondo, e terzo Ulisse F, che ha fatto lui la corsa, ma ha trovato avversario più forte. Per il momento è tutto, 1.57, vediamo la quota, 2.25, linea allo studio. Grazie. 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 Grazie a tutti.